Per il direttore Lomonaco, perché è un personaggio molto molto importante nell'ambito calcistico, io non vorrei ne ribattere nulla, anzi mi dispiace se lui magari ci è potuto rimanere male come tutta Catania, ma noi alla fine rimangono i tre punti, i tre punti sono venuti a noi, quello che contano, quello che ci interessava a noi era per muovere la nostra classifica. Non lo so, ha avuto i suoi buoni motivi per dire quello che ha detto, non mi interessa nulla.